Mostra gli oggetti di fronte alla fotocamera, una persona, uno telecomando, una bottiglia, una tazza, due tazza, un cucchiaio, tre bottiglia, un forno a microonde, due bottiglia, una bottiglia, due bottiglia, due tazza, una bottiglia, l'uter portatile, uno telecomando, un libro, due libro, tre libro, un libro, quattro libro, un cane, una bottiglia, tre libro, sei libro, un uccello, una panchina, Pre-chill, pre-chill Vengalo... Vengalo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.